21 giugno apriremo la sede di Confindustria negli Stati Uniti, abbiamo pensato di raccontare le imprese italiane in una maniera diversa e quindi abbiamo pensato di realizzare questa mostra monografica con 12 tavole del Codice Atlantico di Leonardo che rappresenta l'ingegno italiano, il saper far bene, il saper far bello e quindi raccontare il nostro paese e la nostra industria in una maniera diversa creando un ponte sociale e culturale con gli Stati Uniti. La Cina e gli Stati Uniti ci hanno lanciato una sfida di competitività e quindi è necessario che ci sia una risposta nazionale ma soprattutto europea, noi è da tempo che chiediamo un fondo europeo per la competitività dell'industria europea perché l'industria è strategica, è strategica per il nostro continente e devo dire però che l'Europa dopo l'intervento di Next Generation EU e quindi una risposta comune a una crisi simmetrica con la pandemica sta un po' venendo meno e quindi bisogna spingere l'Europa a pensare seriamente a mettere in campo quelle politiche per la competitività che sono necessarie per le nostre imprese per agganciare quelle transizioni digitali e ambientali che sono ineludibili.